Siamo in guerra? Non sappiamo il nome. Informazioni, soldi, armi. Hai in mente qualcosa? Sergente McTavish! Questa è la città delle anime. Ci sono pochi tutori della legge e quelli che resistono alla corruzione spariscono. Il terrorismo già va agli affari. Finché ci sarà la guerra, non ci sarà mai una guerra alla droga. Abbiamo altri problemi. Adesso non siamo la 141 nello Spacheros. Siamo un team. Voglio sapere quanti missili hanno e dove hanno intenzione di usare. Ci vedete bene? Affermativo. Servono preparazione e pianificazione. Servono violenze e tempismo. Le mie specialità. Forza Johnny, muoviti! Comandi un gruppo terroristico internazionale. Potrei dire lo stesso di te. Prenota in digitale Call of Duty Modern Warfare 2 e gioca alla campagna fino a una settimana in anticipo.